Perché ti servono quelle lenti, Optimus? Riteniamo che vi sia stato inciso un codice, la chiave per individuare l'Allspark. Allspark? L'Allspark è la nostra forza vitale, la sorgente da cui hanno origine tutti i Transformers. Ma perché proprio gli occhiali di mio nonno? Perché anni fa ha scoperto la nostra Nemesi, Megatron, intrappolata nell'Artico. Megatron incise nelle lenti queste informazioni con laser, sperando che i Decepticon le avrebbero trovate. Dunque, Nemesi congelata, lenti magiche, una forza vitale robotica. D'accordo, ma quello che ancora non capisco è perché questo super ricognitore si è camuffato da tritatutto. Questa sì che è un'auto. Elicotteri in arrivo! Trasformatevi e partite! Jess, distrae la loro attenzione da Sam e Michela. Sì, raggiungi il segnale e crea un diversivo. Sì! 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 Faici guadagnare del tempo, Jay! Attirali lontano da noi! Non è per mattima, Jay! Non lasciarti bloccare dal loro fuoco! No, 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 no! Potrei fare qualcosa di notevole per attirare la loro attenzione. Potrei fare qualcosa di notevole. Devono continuare a insegursi così noi avremo il tempo di fuggire. Potrei fare qualcosa di notevole. 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 Grazie a tutti. 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 Vattene da lì, Jess. Posso farcela da solo. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. , 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 a tutti.